vari conti con l'ambiente 2023 la manifestazione organizzata da labelab siamo con simona trerè che è consulente di sostenibilità esperta di contenuti green il tema della nostra chiacchierata è appunto la comunicazione sostenibile e green marketing simona noi stiamo appunto vedendo che la sostenibilità veicolata dalle aziende è sempre più importante e a riguardo ci sono due importanti novità soprattutto per quanto riguarda la rendicontazione e la comunicazione della sostenibilità quali sono sì esatto si tratta di due importanti novità che andranno a interessare direttamente le aziende la prima è la direttiva CSRD ossia la Corporate Sustainability Reporting Directive si tratta della direttiva europea che disciplina la rendicontazione della sostenibilità di un'azienda quindi degli impatti sociali e ambientali e di governance che tramite la sua attività ha la direttiva impone a riguardo nuove novità nuovi obblighi e inoltre una cosa importante anche è che amplia la platea delle aziende interessate e infatti molte più aziende rispetto a ora saranno tenute a rendicontare e redigere il bilancio di sostenibilità e quindi andare anche a realizzare piani di sostenibilità strutturati che dovranno poi essere rendicontati e quindi poi anche comunicati e invece la seconda novità è la direttiva europea attualmente in lavorazione che sarà proprio dedicata a contrastare il greenwashing che dopo vediamo comunque un fenomeno sempre più più dilagante che più o meno tutti ormai conosciamo molto molto interessante poi parliamo di contenuti di un deep dive molto specifico sul tema lo vedremo nella domanda successiva però adesso voglio chiederti si buona appunto hai citato no una nuova direttiva sul bilancio di sostenibilità porta con sé delle novità ma porta con sé anche dei nuovi obblighi per le aziende vuoi spiegarci di cosa si tratta? Sì allora innanzitutto con questa nuova direttiva tutte le grandi imprese europee non necessariamente quotate in borsa che hanno almeno 250 dipendenti un fatturato superiore a 50 milioni di euro un attivo di superiore a 43 milioni saranno tenute appunto a redigere il bilancio di sostenibilità prima delle direttive invece le imprese erano che erano interessate erano quelle con minimo 500 dipendenti un fatturato maggiore di 40 milioni di euro inoltre grande novità saranno proprio coinvolte le piccole e medie imprese che ora si può dire che sono coinvolte indirettamente perché se vogliono rientrare in filiere circolari o tenere più punti in alcune gare devono comunque iniziare ad approcciarsi alla sostenibilità anzi ormai sono anche un po' in ritardo se iniziano a farlo ora però con questa direttiva saranno proprio tenute anche loro a una vera e propria rendicontazione quindi del bilancio di sostenibilità dell'attività di sostenibilità quindi praticamente saranno incluse anche le aziende quotate ad esclusione comunque delle micro imprese che quindi quelle con meno di 10 dipendenti o un fatturato ad esempio di inferiore a 2 milioni di euro che che loro sono ancora escluse inoltre ci saranno diverse fasi di applicazione quindi dal primo gennaio 2024 saranno si parte con le grandi aziende che già sono diciamo soggette alla rendicontazione mentre dal primo gennaio 2025 diciamo entrando in gioco le grandi aziende le nuove grandi aziende che prima erano escluse invece al primo gennaio 2026 con deroga al 2028 entreranno appunto in gioco le piccole e medie imprese le aziende quotate e quindi questa è proprio diciamo è qui che si amplia molto anche la appunto la platea come dicevamo prima altre importanti novità che comunque riguarda questa direttiva è il fatto che ci sarà l'obbligo di certificazione delle informazioni di sostenibilità del bilancio di sostenibilità tramite un revisore o un certificatore accreditato indipendente quindi anche questo è molto importante inoltre ci sarà anche un'estensione dell'obbligo alle imprese non europee in alcuni casi come ad esempio quelle che hanno una loro succursale in Europa con ricavi netti delle vendite o delle prestazioni importanti di superiore a 150 milioni di euro nell'area appunto dell'Unione Europea quindi insomma queste sono un po' le novità principali poi ce ne sono altre però questo è senti Simona invece per quanto riguarda invece le novità sul greenwashing che è un tema cui parliamo insomma da anni no grazie a fare i conti con l'ambiente alla Belabba, ai social, al blog ecco raccontaci un pochettino le news su questo fronte beh sì allora il greenwashing come dicevo come vediamo è un fenomeno sempre più appunto dilagante c'è da tanti anni però eh oggigiorno eh proprio quasi tutte le aziende si dichiarano sostenibili dal punto di vista ambientale o loro e loro prodotti e loro servizi e diciamo che non sempre non tutte lo non tutte lo sono veramente anzi anzi quindi eh diciamo che finora il greenwashing era sanzionabile eh da varie norme riguardanti ad esempio la tutela dei consumatori la pubblicità ingannevole eh la concorrenza sleale eh però visto appunto l'esponenziale aumento di dichiarazioni e pubblicità ehm in questo senso che appunto non sono eh veritieri importano informazioni magari forvianti o non complete o insomma eh non reali sulla sostenibilità ambientale di un'azienda si è rivelata proprio necessaria cioè si è rivelata utile e necessaria e non più diciamo rimandabile una normativa dedicata proprio a questo tema e quindi cosa succede che questa direttiva europea eh comporta innanzitutto indicazioni più chiare più stringenti e e più comuni per tutti e è stata annunciata annunciata a marzo duemila e ventidue e eh diciamo che il Consiglio europeo con l'appoggio degli stati membri si è impegnato a eh diciamo approvare il testo entro fine anno quindi ehm insomma è molto attuale come eh come anche discussione perché cambiano varie cose ad esempio una delle limitazioni più stringenti è che laddove verrà fatta una dichiarazione di una pubblicità ecologica con dichiarazioni appunto ecologici del proprio eh della propria attività dovrà poi essere anche questa certificata quindi o o tramite una certificazione specifica o comunque tramite proprio diciamo delle ehm insomma dei metodi che sono ancora in in discussione però eh sarà più tutto diciamo comune e quindi questo è una limitazione importante rispetto a quanto a quanto appunto c'è ora e quindi diciamo che questa direttiva permette da un lato di tutelare i consumatori e fornendo loro più garanzie e anche più chiarezza in generale ma dall'altro tutelare anche quelle aziende che sono realmente impegnate nella sostenibilità e quindi eh fornire a loro più visibilità e quindi verranno poi anche più premiate dai consumatori stessi e quindi insomma sono sono novità importanti per quanto riguarda la comunicazione ambientale la il green marketing la comunicazione delle aziende in tema di di sostenibilità e sostenibilità ambientale. Diciamo che dopo questa nuova direttiva si spera di salutare il green washing e dire e dare il benvenuto a a quelle che sono invece delle corrette delle pratiche corrette di di green marketing. Bene, ottimo. Speriamo. Speriamo assolutamente insomma. Bene, ringraziamo Simona Trerè, un strumento di sostenibilità, esperta di comunicazione di tutti i green, fare i conti con l'ambiente 2023. Grazie e a presto. Grazie a voi, grazie a voi, a presto. Ciao.